Musica E non poteva mancare ovviamente l'intervista a Mina che è la mia eroina personale radicale e cominciamo la prima intervista tanto tempo fa un'intervista molto lunga in cui ci raccontassi di come hai conosciuto Piero ecco io volevo chiederti qui alla luce appunto di questo romanzo che è postumo è un romanzo che è postumo però fa anche un salto indietro all'infanzia di Piero ecco tu quel giorno che hai incontrato Piero mi ricordo che tu mi raccontassi che stavi a Roma in gita scolastica avresti mai immaginato che questa storia questa vicenda umana avrebbe potuto travolgerti così ben oltre la morte? Assolutamente no quindi ma nemmeno io non ho mai nemmeno alla fine della sua vita pensavo che poi avesse avuto questo risvolto così forte così importante radicale di quello che abbiamo cominciato e anche oggi per esempio le cose che continuo a fare per me sono una cosa della vita quotidiana una cosa normale e non lo vedo come una cosa grande perché mi sento piccola mi sento piccola nei confronti delle cose che stanno succedendo dove io posso dare il mio semplice apporto da donna che ha vissuto con un grande uomo che però ha anche le sue idee e ha vissuto anche educata da mia madre in un certo modo molto severo dove dovevi veramente prendere delle decisioni importanti dove un lavoro dovevi finire quando l'avevi cominciato e bisognava appunto finire e io questo una volta l'avevo detto a Pier Giorgio perché lui alla fine era tanto tanto stanco un po' per egoismo perché sapere che lui voleva morire voleva dire per me che lui andava via che io ero senza di lui ma io senza di te che cosa faccio? ma fai le solite cose vai a dare a mangiare i gatti qualche volta molto prima ancora prima ancora che fosse tracchiatomizzato diceva quando io non ci sarò più io ti vedo molto bene che tu vieni qui a dare a mangiare i gatti e quando oggi ho sentito leggere di quel brano all'inizio dove noi eravamo su quel terapieno sulla Togliatti in mezzo alle due strade quella che va su e l'altra che va giù in mezzo c'era questa isola felice per gli animali e per i vecchietti ecco quel posto non c'è più perché adesso lì è stata fatta la corsia degli autobus quindi non ci sono nemmeno più quegli alberi che erano dei dei piccoli come si chiamano quelli che mangiano i maiali le le ghiande sì si trasformano i posti i luoghi questi posti non c'erano più si trasformano anche le persone e anche un po' il tessuto sociale io so sappiamo tutti che tu sei molto attiva sei in contatto con tante persone in questo periodo questo tema questo argomento secondo te la gente lo percepisce in un modo un po' diverso rispetto al 2005 le persone hanno cominciato a pensare a riflettere poi sono molte persone che hanno vissuto determinate cose molto gravi e difficili poi ci sono moltissimi giovani adesso che mi chiamano io per esempio la prossima settimana il 6 sono nella scuola germanica di Roma sì e io dirò a loro leggete questo libro specialmente se non avete voglia di leggere perfetto Mina ti ringraziamo ovviamente diamo appuntamento alla prossima intervista e quindi cercheremo di seguirti nei tuoi tanti appuntamenti per far conoscere questa vicenda che è una fusione di umano politico sociale culturale anche sì grazie cerco di centelinare un pochettino le mie uscite per essere ancora un po' a lungo un ostacolo per mettere le mani in tasca e dire ma facciamo più niente no 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 devono andare avanti e bisogna bisogna fare bisogna arrivare a una buona legge per adesso io sarei contenta se questa proposta di legge sul testamento biologico ne venisse fuori veramente anche perché è veramente la presa in carico del malato intero tutto insieme della persona e la morte alla fine insomma dove il medico e il paziente hanno la stessa dignità non c'è il medico sopra il malato meno potente meno bravo e questo devono devono cercare di capire specialmente i bioetici cattolici perché loro vogliono sempre dire che il medico ha più ragione di decidere ma perché no la ragione di decidere ha prima di tutto il malato la persona la persona che è in questione quindi il medico deve cercare di aiutare di accompagnare ma accompagnare davvero fino alla fine grazie Mina Welby lasciato l'ospedale aveva sperato di rivedere il cielo anche se per pochi secondi giusto il tempo che gli infermieri avrebbero impiegato per mettere la parella nell'ambulanza ma non aveva potuto tenere gli occhi attenti quella corona di luce accecante lo aveva sopraffatto stordendolo disorientandolo convincendolo che mai più avrebbe potuto sopportare quella vista adesso se ne stava sul prato rognoso di uno spartitraffico circondato dalle siepi di mortella e ombreggiato da pini polverosi e linfatici e linfatici di un'ambulanza una